Buongiornissimo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La prima giornata di Serie A è terminata e di conseguenza volevo andare a analizzare un po' fantacalcisticamente quei giocatori che magari non ho analizzato perché sottovalutati, perché non li consideravo, perché non mi ispiravano particolarmente, ma che magari possono, in base a come si è visto in questa giornata, essere giocatori interessanti. Molti di questi in realtà non partivano nelle gerarchie come titolari, quindi di conseguenza è chiaro che un non titolare di una Spallo, un non titolare di un Bologna, non lo vai a prendere in considerazione perché tanto tanto il titolare, ma ancor meno il panchinaro, quindi ovviamente non lo vai a guardare. Poi guardando la prima giornata alcune gerarchie sono andate a cambiare magari e quindi di conseguenza utilizzerò queste due giornate di Serie A appunto anche per capire quei tipi di colpi per poi elaborare bene l'asta. Allora uscirà oggi intanto questo video qui, poi ne uscirà un altro domani probabilmente sui nuovi acquisti che sono stati fatti da quando è iniziato la Serie dei Consigli del Fantacalcio fino alla fine, quindi in quel periodo di 20 giorni in cui sono arrivati nuovi giocatori che magari non ho analizzato e li andrò a analizzare domani. E poi uscirà un altro video settimana prossima proprio per riguardo della Serie A e dei giocatori nuovi che sono presi in questa settimana, quindi magari se sono pochi lo farò in un video unico, quello sì. Mentre invece poi vi andrò a dare la rosa che vorrei al Fantacalcio, io farò l'asta il 3 notte, mettiamola così, dalla notte fra il 3 e il 4. Il 4 mattina diciamo vi porterò il video sulla rosa che vorrei, quindi quelli che vorrei di giocatori. E poi nel pomeriggio invece la mia vera rosa, cioè probabilmente totalmente stravolta rispetto alla realtà delle cose, però poi ve lo ricorderò e poi uscirà il video. Comunque andiamo a analizzare i giocatori, sono tanti difensori, devo essere sincero, però non da primissimi slot, però qualche giocatore interessante c'è. Il primo nome che vi do è quello del Bologna che è Tomiyasu. Tomiyasu che in realtà se ne parlava già un gran bene, un gran bene nella parte della prestagionale, viene messo titolare a terzino destro al posto di Mbaie, ottima scelta secondo me, e si dimostra un giocatore abbastanza concreto, mantiene un po' le parole buone che si sono avute nei suoi confronti. È un giocatore fisico, un giocatore che comunque ha anche i suoi strappi offensivi e secondo me può essere molto molto utile, anche perché può giocare anche come centrale, quindi può essere anche adottato lì e ci stare, cioè è molto molto buono, perché ti puoi garantire un titolare che comunque come settimo, ottavo slot, anche in fase difensiva può andare molto molto bene. In più è un terzino, quindi da terzino può essere considerato anche un sesto slot, ci può tranquillamente stare. L'altro nome, un altro terzino è quello di Pinna, Pinna del Cagliari, che sinceramente non conoscevo, devo essere onesto, però questa settimana diciamo ha preso un po' voga il suo nome come titolare a destra al posto di cacciatore, che non so se ha avuto dei problemi oppure se è semplicemente scelta tecnica, però si è rivelato un buon giocatore, un giocatore che all'inizio magari è un po' faticato all'ambientamento in Serie A, però poi appena ha preso un attimino l'abitudine coi campi e nel secondo tempo soprattutto ha fatto veramente molto molto bene. Considerando la prestazione del Cagliari dall'altra sera contro il Brescia, che ha portato alla sconfitta del Cagliari per 0-1 in casa, insomma col Brescia, pensare che Pinna comunque abbia fatto comunque la sua discreta prestazione fa pensare. Quindi è un giocatore che si può tenere in considerazione e è un buon giocatore. È chiaro che bisognerà vedere la titolarità, magari vedremo nella seconda giornata se giocherà anche la seconda, però insomma non so quanto sarà titolare. Altro nome è quello di Castrovilli, questo qua è uno dei giocatori secondo me più interessanti che abbiamo visto in questa giornata, insieme a Sottil, che però avevo già dato come scommessa quindi non ve lo sto a ripetere. Castrovilli buon giocatore, Castrovilli è un giocatore che col Napoli ragazzi ha fatto vedere le sue qualità in una maniera assurda, arriva dal Cittadella se non sbaglio, quindi dalla Serie B, calca da titolare la prima partita della Serie A e è incredibile ragazzi, una cosa clamorosa, cioè degli ottimi piedi, ottima velocità, comunque gestione del pallone, tanta tanta roba ragazzi, un giocatore che se dovesse continuare a giocare così è chiaro che ora avrà una pressione mediatica importante così come Sottil, però se dovessero entrambi continuare a giocare così signori qua veramente abbiamo trovato due giocatori per il futuro veramente molto molto importanti. Quindi Castrovilli tenetelo in considerazione come scommessina più che di per sé un giocatore da mettere a titolare sempre. Poi quando giocherà la potrete mettere tranquillamente, anche perché comunque la Fiorentina è una buona squadra e l'ha dimostrato anche contro il Napoli. Altro nome, un altro molto molto interessante è Ghiglione. Perché molto interessante? Perché Romulo è in uscita, quindi Ghiglione dovrebbe essere il titolare a destra. In più Romulo era dato centrocampista, Ghiglione è dato difensore, quindi è tanta tanta roba. È un giocatore che gioca un po' come Crescita dall'altra parte o Barreca che ci sia, che gioca leggermente più avanzato, quindi nell'allenare centrocampisti, a destra. Ha portato già un assist nell'ultima partita sul gol di Kwame e quindi è veramente un giocatore che comunque la doppia fase la sa fare abbastanza. Non mi ricordo l'anno scorso se giocava nel Froginone, non mi ricordo, devo essere sincero. Però comunque è un giocatore molto interessante e l'ho visto bene, l'ho visto veramente veramente bene. E quindi potete assolutamente prendere in considerazione, il giocatore è molto interessante. Altro nome è quello di Falco, attenzione, Falco è l'attaccante del Lecce. È stato una delle poche note positive del Lecce, secondo me. La Lecce non è che abbia fatto una bruttissima partita, secondo me, ieri sera, però in generale contro quell'Inter era difficile emergere. Falco ci è riuscito, quindi può essere una scommessina per l'attacco. Ricordiamoci che è un giocatore del Lecce, ricordiamoci che è un attaccante, quindi insomma uno slot impegnato per Falco è impegnativo. Però comunque io ve lo vado a dire, probabilmente la prossima potrebbe giocare anche il titolare, chissà, vedremo un attimino ancora meglio questo giocatore. Altro nome è Hernani, non è che mi abbia fatto impazzire, siamo chiari. Prende il suo 6, qualche bonus lo potrà portare, però è comunque un giocatore che si parlava molto bene di lui. Volevo vederlo prima all'opera, sinceramente prima di metterlo in una qualche fascia o scommesso, chissà cosa. È un giocatore che può essere garanzia di titolarità, un giocatore che comunque il 6 ve lo può portare. E se non sapete chi prendere potete puntarci, assolutamente. Però, come detto, uno, due crediti massimo, non di più. Altro nome, Igor, molto interessante anche questo, perché è un difensore in realtà centrale, da quel che so, terzino o difensore centrale. Però ha giocato più avanti, ha giocato nella linea dei centrocampisti, al posto di, diciamo, alla Lazzari, al posto di Faresso dall'altra parte. E, signore, ha fatto molto bene, ha fatto molto molto bene. Ha fatto l'assista a Petagna, veramente, veramente figo. Veramente tanta, tanta roba. Ha giocato poi anche per il resto una buona partita, contro un ospite anche molto difficile, perché la Tebore. Quindi, veramente interessante e va preso in considerazione, perché sappiamo che Semplici punta molto su quel ruolo. In più, se veramente si rivela un giocatore, come ha fatto vedere contro l'Atalanta, tanta, tanta roba. Quindi, dato difensore, considerato un difensore da Fanta Gazzetta, quindi, assolutamente, potete prendere in considerazione, insieme a Ghiglione, secondo me. Sono i migliori di questa lista, assolutamente, per titolarità e per prestazioni. Altro nome, Boga. Non mi ricordo se l'avevo analizzato o preferito metterlo. Perché? Perché Boga, comunque, ha fatto la sua partita, si dimostra sempre su una spina nel fianco. Quest'anno dovrebbe essere titolare, certo, del posto. E quindi, sicuramente, rende ciò più appietibile rispetto all'anno scorso, in cui entrava dalla panchina, a volte non giocava, a volte aveva la sua chance da titolare. Però, un giocatore che ha una tecnica, una velocità impressionante, salta sempre l'uomo, può essere pericoloso, secondo me può darvi 5-6 gol questa stagione, più altrettanti assist. Quindi, potete prendere in considerazione, secondo me, come un quarto-quinto slot. Non da... forse quinto e basta, neanche quarto. Però, potete puntarci, secondo me, qualche credito. Altro nome, Scommessona. Scommessona Bonifazi. Perché Scommessona? Perché, allora, sapete bene che io, fra Bremer, Bonifazi e Lianco, cento volte Lianco. Però Lianco non ha giocato, quindi io non so perché. Però ha giocato Bonifazi, Bremer, Itz. Un culo dovrebbe andare via. È una cosa clamorosa questa, ma un culo dovrebbe andare via. In tal caso, Bonifazi o Lianco o Bremer potrebbero trovare molto più spazio. Già Bremer l'ha trovato come centro-sinistra titolare, però, secondo me, non è eccezionale. Bonifazi e Lianco, secondo me, potrebbero trovare il loro posto. Quindi, secondo me, puntare una scommessina su Bonifazi o Lianco continua ad essere un'ottima scelta. Soprattutto se andassi via un culo. Lo vedremo, io ne parlo soprattutto in questo video, soprattutto in ottica di settembre. Quindi, comunque, avrete tempo di vedere al mercato chiuso. Però Bonifazi, secondo me, è un'ottima scommessina. È un buon giocatore, assolutamente. Come sono ottime scommessine, gli ultimi giocatori che vi do è Bessau e Trostekong. Trostekong è, più che altro, garanzia di titolarità. È un buon giocatore, secondo me regala il suo 6 abbastanza fisso. Non regala bonus, però l'anno scorso, mi ricordo, che quando all'asta di riparazione cercavo un difensore, poi non l'ho preso, però cercavo un difensore da sostituire con uno che avevo. Trostekong mi era andato nell'occhio perché, perché avevo visto che aveva giocato tutte le partite, in più aveva una media sopra il 6. 6,08, 6,09, non lo so, l'intorno. Però comunque una media del 6 che per un difensore dell'Udinese non è assolutamente male. Vuol dire che comunque sei lì sempre fra il 6 e mezzo del 6 ed è tanta, tanta roba. Quindi Trostekong è da prendere in considerazione per questione di titolarità. Un settimo slot può occuparlo. Bessau, scommessina molto, molto interessante. Ha fatto gol e ha fatto una gran prestazione. Non mi limito al gol. Ha fatto una bella prestazione comunque. Non è che sia stato straimpegnato, però quando è stato impegnato è sempre stato pronto, si è sempre fatto trovare pronto. Quindi consideratelo, consideratelo anche lui come un settimo slot. Detto questo ragazzi, il video è finito. Io vi invito a mettermi in piace. Se volete altri video di questo tipo, vi invito a scrivermi nei commenti un po'. Se c'è qualche giocatore di cui volete parlare che mi sono dimenticato, ditemelo pure nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Altre da calcistica, fanta calcio, qualsiasi cosa accadrà nel mondo del calcio. Tutto questo vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao.